C'è ancora molto da fare per garantire una giusta ed equilibrata conciliazione tra lavoro e maternità e contrastare di conseguenza il fenomeno delle dimissioni volontarie. Per aiutare le donne a orientarsi e a rivendicare i loro diritti e sollecitare al contempo i datori di lavoro a rispettarli secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro e la Consigliera Regionale di Parità hanno realizzato il primo Vademecum sul tema, presentato con la condivisione anche di qualche dato sul fenomeno socio-occupazionale. Nei casi che si rivolgono al nostro ufficio troviamo circa il 65-70% per motivi nella gestione della maternità dal momento in cui entrano in maternità al momento in cui rientrano in azienda. Noi interveniamo nel momento in cui appunto il datore di lavoro non è in grado di garantire delle mansioni che siano compatibili con lo stato di gravidanza e in questi casi sono stati 8.500 nel 2018 e alcuni casi sono rilevanti perché non sono stati a suo tempo attivati dal datore di lavoro oppure il datore di lavoro non ha concesso i diritti permessi che la lavoratrice di cui aveva diritto.